Noi in questa occasione ovviamente abbiamo sopportato la V Playground, in particolare abbiamo deciso di esporre uno dei nostri nuovi supporti, che al di là del progetto in sé è per noi una scelta molto importante, perché il prodotto che abbiamo esposto oggi, e che comunque sia abbiamo offerto alla V Playground per le loro sezioni interattive, è una colonna motorizzata, è un carrello motorizzato, che aiuta l'interazione e il supporto con delle lavagne touchscreen. Per noi è un passaggio molto importante come Aeromet, perché in realtà sensisce l'ingresso del mondo dell'elettronica, e per questo abbiamo appunto creato una soluzione intermedia che va proprio a coprire questa esigenza, e appunto siamo stati anche in questo caso nominati per support of the year, che per noi a livello internazionale è una grande soddisfazione, anche perché, ripeto, nel nostro piccolo, pur sempre teniamo alti insomma i nomi di un'azienda italiana che produce in Italia e che è fortemente legata sul territorio. Noi ci teniamo a supportare questi eventi come appunto lo smart building, in particolare la V Playground, perché riteniamo che l'Italia abbia bisogno di una nuova casa, una nuova casa di questo settore in forte espansione, che spesso e volentieri viene dominato da aziende straniere, senza dubbio, ma che in Italia trova l'esaltazione di tecnologie, di impianti sicuramente all'avanguardia a livello mondiale. Per questo noi abbiamo supportato la V Award e la V Playground per questo fine, perché noi crediamo in questa esigenza di fare gruppo. Grazie.